Ciao a tutti ragazzi sono Orkuverde, in questo video vi farò vedere un trucco su Rainbow Six Sage. Sappiamo tutti che quando con il personaggio ci mettiamo contro una parete di un muro che sia rinforzato o meno, quando ci covacciamo il personaggio strusciando contro le pareti del muro fa rumore. E questo rumore tante volte può essere a favore degli avversari se si trovano vicino a voi. Con questo trucco, quando vi covacciate e siete dietro a una parete, il personaggio si covaccerà silenziosamente senza emettere nessun rumore. Mi raccomando per fare questo trucco dovete essere contro una parete di un muro. Per fare ciò dovete muovere la levetta analogico sinistro, quindi il tasto per muovere il personaggio, contro la parete del muro e poi covacciarvi. Come noterete facendo ciò il personaggio si covaccerà senza fare rumore. Ragazzi fidatevi che sembra una stronzata ma in realtà questo trucchetto può esservi utile. Dato che come dovreste sapere quando si gioca Rainbow Six Siege meno rumore si fanno più si è vantaggiati e potete utilizzare questo trucco per uccidere i nemici a sorpresa. Io sto facendo questo trucco nella mappa a casa ma voi potete fare il trucco in una qualsiasi mappa. Il trucco funziona in tutte le mappe. Questo trucco non penso che venga mai risolto in quanto questo è semplicemente un trucco e non un bug o un glitch. Quindi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orkover da Tutto di Cine a un prossimo video. Bella! Grazie.